Silvia Cangelosi, Medio Teleradio speciale TTG 2019 Rimini, continua il nostro viaggio nelle aziende, sono in uno stand storico che non ha bisogno di presentazioni permaflex. Per raccontarci qualche novità in più su questo marchio davvero leggendario, al mio fianco il direttore vendite Massimo Matteuzzi, benvenuto. Grazie a tutti, vi ringrazio di essere venuti qua da noi per far vedere a tutto il pubblico i nostri nuovi prodotti. Il primo prodotto in assoluto è questo sommier che è molto particolare perché ha tutti gli angoli bombati, quindi risalta molto di più l'aspetto del materasso che rimane al suo interno, con una testiera una novità assoluta nel mercato perché è sfoderabile, quindi la potete cambiare quante volte volete e delle novità anche sui materassi che dopo Massimo vi dirò e vi farò vedere. Questo è un marchio leggendario, vogliamo raccontare anche un po' qualcosa sulla storia. Marcord nasce nel 1953, il marchio è stato il leader di mercato per tanti anni, il materasso è permaflex, poi giustamente negli anni sono intervenute altre aziende, però noi siamo sempre presenti nel mercato, sempre curiosi, sempre alla ricerca della novità da proporre ai nostri clienti. So che c'è anche un altro tipo di materasso, curiosato nello stand che è molto carino, che è soprelevato? Il termine è un ghost, è un sommier completamente sospeso, permette una pulizia rapidissima della parte sotto al sommier, è un aspetto visivo molto bello perché sembra un materasso sospeso, fatto a nuvola, sospeso nell'aria e dà una sensazione molto particolare, se dopo volete ve lo faccio vedere. Ovviamente se sarebbe il materasso per me, devo dire che tra le pulizie di casa è una cosa più pratica. Sì, se ve lo faccio vedere dopo vedrete che è un completo letto molto 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 bello, molto interessante, soprattutto anche nel settore alberghiero. Ghost, siamo al periodo di Halloween, attenzione. Siamo lì vicini. Grazie direttore, grazie, buon lavoro.